poi secondo me si ritornerà eh sì, evidentemente questa è una situazione nuova è una cosa diversa ah beh certo, sicuramente è la situazione più difficile dalla fine della seconda guerra mondiale così che evidentemente ah beh sicuramente eh sì io proponevo sentire una canzone non so se va bene e penso che che questa canzone lo dice tutto perché l'ha scritto un grande cantautore italiano Francesco De Gregori Viva l'Italia ascoltiamo sì sì va bene viva l'Italia l'Italia liberata l'Italia del valse e l'Italia del caffè l'Italia derubata e colpita al cuore viva l'Italia l'Italia che non muore viva l'Italia presa a tradimento l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura viva l'Italia l'Italia che non ha paura viva l'Italia l'Italia che è in mezzo al mare l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare l'Italia a metà giardino e metà galera viva l'Italia l'Italia tutta intera viva l'Italia l'Italia che lavora l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora l'Italia a metà dovere e metà fortuna viva l'Italia l'Italia sulla luna viva l'Italia l'Italia del 12 dicembre l'Italia con le bandiere l'Italia nuda come sempre l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste viva l'Italia l'Italia che resiste l'Italia con gli occhi aperti 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 Viva l'Italia e ci abbiamo due ospiti nuovi nuovi nel senso di chi stanno oggi non chi sono nuovi per noi uno ovviamente Andrea Fabiani ciao Andrea buonasera a tutti e da dalla peninsola iberica il grande Roger e Rugger Cruz Fernandez hola Rugger come stas? hola a todos hola a todos sono a prato hola Rugger allora allora io direi che possiamo intanto abbiamo lasciato Davide Mulas e Pietro Locatelli proprio per salutarli ma anche perché possano salutare sia Rugger che Andrea esattamente almeno questo mezzo questo media Rugger può aiutare a parlare con la gente che non che non potremmo incontrare esattamente quello è fondamentale così così Davide Mulas Pietro Locatelli se volete salutare sia Andrea che Rugger e poi ci sentiamo per le prossime puntate va bene ciao Andrea hola ciao ciao Davide è stato è stato un piacere sentirti sì anche per me va bene un saluto a Davide Mulas e Pietro Locatelli da Milano e da Varese ciao ragazzi un abbracione buona serata alla prossima grazie a tutti quindi con Andrea Fabiani e Rugger anche questa settimana facciamo questa nostra rubrica che Andrea e Rugger la semana passata ha tenuto un gran esito un grande successo perché moltissima gente ha inviato messaggi per Facebook o per Whatsapp preguntando della roba di cap della camiseta della roba di cap e per suerte che il signor Vittorio Begone che stiamo qui salutando che è un grande estimatore della roba di cap ha contestato a alcuni pegnisti per Whatsapp allora che abbiamo questa noc Rugger empeziamo da ti che abbiamo questa notte e continuando con il video che colgò l'altro giorno Facebook del Barca una camiseta special molto antigua della temporada 1960 61 la finale di Berna la finale di Coppa d'Europa fantastico il Barca bestia con l'unico che era un giocatore spagnolo exacto fu nel partito di volta contro il Radek Kraslovar checo in quartos di finale della Coppa d'Europa che il Barca aveva conseguito un empate nel partito di ida e in la volta le dieron il balone d'oro come miglior giocatore di Europa e il Barca gano 4-0 ese partito clasificandose per semifinali in una eliminatoria che jugò contro il Hamburgo alemanno e che se necessitarono 3 partidos per decidere qual era il finalista perché il Barca gano al Camp Nou 1-0 e perdiò 2-1 in Hamburgo e il terzo partito gano 1-0 perché non esistono erano i penalti la tanda del penalti e incontrò alla final un equipo che per la prima volta come il Barca che è stata la finale che era il Benfica il Benfica e che il Barca era favorito nel partito no Roger chocava chocava a Eusebio no, no, no no, esa final no estaba Eusebio ah, no estaba Eusebio no, no no, no no, no no, es Pio Valle cierto, Eusebio de cualquier anno una cosa apareció en el año siguiente también ganaron a Madrid por goleada 5-3 me parece exactamente Ragazzi tornando un attimo un attimo al presente Sport España ha messo una inexclusiva dice la la malleta de gala del Barça de la próxima temporada avete vista l'has vista Roser creo que es la la cuarta del año próximo no que parece sí que las franjas rojas se van difuminando y abajo aparece la ceñera sí 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 qué bueno la idea la idea está bien pero hay que ver porque eso es un diseño gráfico hay que ver exactamente la camiseta como es porque puede ser bonita o puede ser un horror así que hay que esperar un poco pero la idea la idea es buena la idea es buena sí yo creo que deberían volver a algunos modelos un poco más clásicos después de tantos años de de diseños un poco extravagantes un poco extravagantes sí va a ver pero se cerca se cerca siempre la la sofisticación en cuál senso obviamente sí me ha sembrato de de haberla intravista en cualquier poste pero me ha sembrato mucho somigliante a quella que será la prima magia sí grandísima los crack cubala coci sevaristo luís suárez e zíbor e cuando 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 la fin de la transmisión porque es un poco lungo yo he encontrado un bellísimo reportage de la gazeta de lo sport que muchos años hace este video que raccontaba le finales de la Coppa d'Europa y con intervista piccola a Luisito Suárez y Luisito Suárez va diciendo que fue un partido de mala suerte el Barça era muy fuerte ma fue un partido de mala suerte con realmente es verdad no si si es verdad es verdad seas del Barça o de cualquier equipo solo hace falta ver la final para darse cuenta que realmente fue una final maldita una final maldita porque el Barça estrelló 4 balones en el postre y aparte tuvo 5 ocasiones clarísimas para marcar incluso defensas del Benfica sacando balones de debajo del área cuando el portero ya estaba superado y realmente es un partido que yo creo y yo no recuerdo en toda mi vida otro partido que con tantas ocasiones y tantos palos el equipo no haya ganado ese partido fue un partido maldito fue el último año que i pali erano cuadrati no? si la UEFA decidió al año siguiente ya poner palos retondos para evitar que la competición cogiera fama de tener mala suerte como la tuvo después el Benfica si si exactamente exactamente y el increíble los primeros dos goles del Benfica el primero con un error de Ramayez que salió al límite de la línea de la área de penalti el jugador del Benfica marcó con un porque el tío que anticipó Ramayez la pone al centro del área y con la puerta delante la puerta el jugador Benfica marcó el gol y el segundo gol el sol en los ojos de Ramayez que le van a hacer un error por un gol en la propia portería es increíble si lo miras uno no lo va a creer come come si uno dice pequeño se me es un berreto digo hijo si papá porque no estaba el solo al Berna llegó un pequeño solo cuando debí perder pero era un gran barça un gran barça con gran crack hemos hablado de 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 el delantero fue 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 la 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 primera final de Copa de Europa